Morti due attori mentre giravano una delle serie televisive Netflix P.Esponente 1 viste dal pubblico, ecco i dettagli della vicenda una tra le serie televisive Netflix P.Esponente 1 avvincenti e seguite dal pubblico a quella attratta dal fumetto di Mark Miller e dall'artista Peter Gross intitolato American Jesus, il nome è Chosen One Iverardo Gaut e Leopoldo Gaut sono con showrunner della serie che fa parte dei titoli previsti dall'accordo stretto preso da Miller con Netflix nel 2017 Purtroppo due attori hanno perso la vita dopo un brutto incidente che ha lasciato tutti senza parole Curiosita Photo Web, la stagione è composta da sei episodi e comincia con tre medici che vanno in un remoto villaggio del Pantanal per vaccinare gli abitanti e salvaguardarli da un possibile e gravissimo virus che prende il nome di fantasia, Zika Sin da loro arrivo qualcosa va storto, poiché gli abitanti non riescono ad accettare quello che i tre medici fanno per loro soprattutto per caccia all'onnipotente che può a quadrato curare qualsiasi problema e male P.Esponente 1 di loro Presto i tre si troveranno di fronte al prescelto e faranno i conti con questo leader enigmatico rendendosi ben presto conto di essere diventati prigionieri I poteri derivanti dalla fede metteranno a dura prova la mentalità di dottori e il loro legame con la razionalità Il protagonista della serie a Renan Tenta e accanto a lui vi sono altri attori tra cui Paloma Bernardi, Gutto Suster Pedro Caetano, Ellie Willow, Mariano Mattos Martins, Auri Porto, Chico Vianello, Francisco Gaspar, Tuna Due e Kelly Nelson Vladimir Due attori sono stati coinvolti in un grave incidente sul set e hanno perso la vita, stiamo parlando di Arraimundo Garduno e Juan Francisco González Aguilar Incidente sul set, due attori perdono la vita Un grave incidente sul set due attori perdono la vita, foto web Netflix, la serie ha stata messa in pausa dopo la tragedia che ha coinvolto due attori che sono scomparsi mentre giravano alcune scene del film Ha il tutto accaduto mentre gli attori erano a bordo di un furgone che si è arrivaltato in un'area deserta, dove era stato allestito il campo base e vi erano altri membri del cast I protagonisti, in precedenza si erano lamentati delle condizioni non adeguate del cast e proprio per questo sono in corso delle indagini che coinvolgono la produzione, per accertare che ci sia una loro responsabilità Nell'incidente oltre i due attori che hanno perso la vita, sono rimaste coinvolte sei persone rimanendo ferite A Netflix intanto fa sapere che la tragedia avvenuta al di fuori del set e le riprese non potranno progredire sino a quando le indagini non saranno terminate e venga fatta luce sull'accaduto A